Andy, Reddy è un gattino che tutte le sere mi guarda e mi aggola. Cosa significa? È un messaggio. Beh, ora dire che... Bella domanda, Andy. Sì, non è difficile. Dici che dobbiamo credere a Christian. Ma non so. Christian che parla con gli animali mentalmente. Ah, questo Christian. Dunque c'è Christian che parla con gli animali a livello mentale. A livello mentale, sì. Lui guarda le Polaroid e a livello mentale comunica con gli animali. Ma come fa? Ma non è vero. Una volta un suo amico gli ha portato una Polaroid e una mucca. Ma chi se ne frega della mucca? E lui guardando la foto della mucca gli ha detto che cosa la mucca gli aveva detto di dirgli la mucca. Cosa? Il suo amico è rimasto di merda. Per cosa? Sai di merda proprio. Perché era tutto vero. Ma cosa vero? Aspetta un attimo che qua c'è qua... C'è il suo computer. Pasoni e Landry ce ne sto capendo un cazzo. Eh, neanche noi abbiamo capito niente. Comunque, vabbè. Perché ci stanno depistando.